Invece abbiamo per il Belgio la Van Bergen che invece non ha novitato nessun risultato. Seguiamo subito l'incontro, attacco della Francese e c'è un... no, non viene segnalato nessun vantaggio e quindi i primi 20 secondi passano così senza segnalare nulla di importante sul tabellone. Sì, vediamo che la Francese sta andando bene a terra. E' fatti, è polo. Bellissimo Ude e Sigi Giugigatame per la Francese. Vediamo che la Belga ha probabilmente...